e salve a tutti amici del legionario e benvenuti alla puntata numero 126 della nostra rubrica 10 minuti con il legionario torniamo in diretta abbiamo molte cose di cui parlare perché insomma si è concluso il mercato è tempo di dare un giudizio su questa sessione di mercato molto particolare non solo a causa del coronavirus ma perché è stato un mercato soprattutto per la Roma strano e fino alla fine insomma operazioni che sembrano in procinto di essere chiuse e poi che non sono andate a buon fine penso a quella di Arcadius Milik e poi al photo finish quella di Stefano El Sharawi che è saltata ma ne parleremo una Roma che ha sfoltito molto la rosa è stato fatto un buon mercato in uscita anche se non sono stati piazzati alcuni esuberi come Fazio e come con Gesù che quindi rimangono in rosa e rimangono quindi ai noi a bilancio sul bilancio della Roma pesano sul bilancio della Roma entrambi prendono insomma una bella cifra per il ruolo che costituiscono in questa squadra penso soprattutto a Juan Gesù che costituisce un ruolo marginale in questa rosa basti pensare che Fonseca l'ho escluso dal progetto tecnico Fazio secondo me troverà spazio quest'anno non ha il posto da titolare insomma però considerando che la Roma gioca su tre fronti considerando che speriamo il meno possibile giocheremo insomma qualche partita senza qualche difensore perché lungo la stagione le partite sono molte ci sta magari tra infortuni diffidati insomma che qualcuno non ci sia per cui credo che Fazio qualche partita la giocherà come lo scorso anno Gesù insomma lo vedo proprio escluso completamente dal progetto della Roma anche se entrambi sono stati inseriti nella lista per l'Europa League da Paolo Fonseca comunque considerando anche il ritorno di Smalling un'operazione incredibile al photo finish questa stessa cosa di Stefano El Ciarawi solo che il faraone purtroppo non è andato a buon fine Smalling per fortuna è di nuovo a Roma sono contentissimo di questo del suo acquisto perché prendiamo il difensore più forte della Roma uno dei giocatori migliori della scorsa stagione non solo nella Roma ma anche in tutta la Serie A non è mai facile per un difensore inglese arrivare da un altro campionato dopo ben dieci anni con il Manchester United arrivare in un campionato che è completamente diverso rispetto alla Premier come la Serie A e devo dire che Smalling si è ambientato benissimo ha fatto bene sono contentissimo di averlo ripreso sono contentissimo che la Roma lo abbia ripreso ma sono ancora più contento che tutta la tifoseria sia compatta nei confronti di questo giocatore che ha rischiato la tribuna per un anno a Manchester perché praticamente lui ha rotto completamente con lo United non in maniera negativa però insomma ha detto esplicitamente di voler tornare alla Roma non ha mai cambiato idea nonostante questa trattativa sia stata difficilissima è andata avanti fino all'ultimo minuto di mercato perché poi come ben saprete c'è stato questo problema in cui la Roma si era scordata di mettere quando ha mandato il contratto insomma alcune cose sulla liquidità per l'acquisto del giocatore poi per fortuna è arrivato l'ok dalla Lega e il trasferimento è stato effettuato c'è stato qualche minuto in cui tutti quanti noi tifosi abbiamo sudato freddo perché veramente sarebbe stata una beffa incredibile non poterci permettere Smalling preso dopo tutte queste difficoltà alla Roma hanno fatto i complimenti che non ha mai ceduto alle richieste dello United lo United ha sempre chiesto 20 milioni tra l'altro un atteggiamento veramente poco professionale secondo me da parte della società inglese perché considerando che c'era Smalling che premeva praticamente da inizio sessione di mercato di andare via loro avrebbero dovuto comunque venire incontro alla Roma invece non si sono mai schiotati dalle loro richieste insomma sembrava come se volessero farcelo apposta poi per fortuna la Roma ha sempre offerto una cifra intorno ai 15 milioni di euro infatti è la cifra per cui li abbiamo presi ci sono anche 5 milioni di bonus ma il bonus scatterebbe nel caso in cui la Roma dovesse vincere la Champions League nei prossimi due anni mi sembra nei prossimi tre anni io me lo auguro la vedo un po' difficile come cosa però nel calcio tutto è possibile ovviamente speriamo che la Roma possa vincere la Champions League intanto l'obiettivo è tornarci in Champions poi pensiamo a vincerla magari perché insomma manca molto la Champions anche a Roma comunque Smalling la ciliegina sulla torta è stato 15 milioni di euro un giocatore incredibile c'è stata anche la foto insomma di lui che gioca via l'Europa a carte vicino all'Euro una zona Euro una storia molto particolare quella di Smalling che al momento è l'idolo della piazza sicuramente perché ha voluto la Roma un comportamento professionale poi si fa vedere insomma in giro per la città queste cose piacciono molto si vede che vuole Roma vuole solo la Roma ha voluto fortemente la Roma anche nelle sue dichiarazioni ha detto che insomma guardava le partite della Roma da Manchester per cui un giocatore incredibile ce lo teniamo stretto non solo dal punto di vista calcistico perché è un difensore importantissimo per la Roma è imprescindibile per questa squadra ma proprio dal punto di vista umano perché un giocatore con un attaccamento così raramente considerando in un solo anno Smalling ha avuto questo attaccamento alla squadra alla città e ai tifosi è incredibile quindi credo che raramente ho visto la piazza così unita nei confronti di un solo giocatore basti pensare che c'erano diverse persone ad aspettarle ad aspettarlo a Ciampino quando è tornato che gli hanno riservato il giusto tributo a un giocatore che sicuramente farà la differenza anche quest'anno in questa squadra è un calciatore imprescindibile altri acquisti con Bulla Borca Majoral e Pedro una Roma che ha speso 19 milioni di euro in questa sessione di mercato risparmiati e ha incassato 45 milioni di euro dalle varie dalle varie cessioni personalmente se dovessi dare un voto al mercato della Roma considerando l'acquisto di Smalling che ha salvato un po' insomma il mercato do un 6 meno perché ovvero la Roma ha preso 4 giocatori forti con Bulla in prospettiva soprattutto ma un buon giocatore prende 4 giocatori alcuni in prospettiva altri di esperienza come Pedro e Smalling acquisti mirati il problema è che non hai colmato la laguna che hai a destra perché parliamoci chiaro la Roma l'11 titolare della Roma per 10 undicesimi è un'ottima squadra considerando anche i nuovi acquisti di Pedro e di Combulla e Borca Majoral che ti permette anche di giocare a 2 davanti con Dzeko il problema è la laguna a destra che hai perché un conto è giocare con Spinazzola che sta facendo molto bene a sinistra a destra hai Santon Bruno Perez e Karsdorp ecco Karsdorp a mio parere tra i 3 è il terzino più preparato più forte il problema è che fisicamente è molto fragile e con tutto il rispetto per Santon e Bruno Perez presentarsi insomma appena si alza un po' l'asticella sono giocatori che non sono sicuramente da Roma ecco secondo me la società avrebbe dovuto intervenire in quel ruolo colmando questa laguna ci ritroviamo con questi 3 terzini speriamo facciano bene io ovviamente vestendo la maglia giallorossa loro hanno il massimo appoggio però purtroppo hanno dei limiti che sono evidentissimi e per quanto riguarda la zona esterni 3 quarti dobbiamo dire che la cessione di Perotti è stata giusta l'acquisto di El Sharawi avrebbe sicuramente dato un voto in più al mercato della Roma avrebbe rinforzato di molto la squadra non capisco però le cessioni la cessione di Perotti è stata giusta perché ti pesava tantissimo a bilancio è un giocatore che purtroppo fortissimo che ringraziamo per la professionalità perché ha dato tantissimo alla Roma il problema è che purtroppo fisicamente era era praticamente a pezzi era sempre fuori non so quante partite abbia giocato lo scorso anno però poche e quindi è stato giusto cederlo non capisco la cessione di uno dei due tra Under e Klaivert cioè potrebbero essere giuste come cessioni il problema è che la Roma non ha preso nessuno per rimpiazzarli quindi lì ti trovi con Pedro Mkhitaryan ragiono in un'ottica 3-4 2-1 lì ti trovi con Pedro Mkhitaryan Carles Perez Zagnolo quando rientra però insomma fino a gennaio sarà fuori Nicolò e all'occorrenza Pellegrini che però è stato spostato in Mediana anche in Mediana abbiamo Veretù Diavara Cristante e Villar ecco qualche alternativa c'è al centrocampo al centrocampo sinceramente non mi ha mai preoccupato più di tanto certo se avessimo preso Torreira sarebbe stato un grandissimo acquisto mi preoccupa più la 3-4 ma non perché la qualità c'è Pedro Mkhitaryan Carles Perez anche mi piace molto all'occorrenza Pellegrini può giocarci il problema è la mancanza di uomini quindi avrei tenuto uno tra Kunder e Kluivert però insomma la società ha fatto le sue valutazioni sicuramente insieme all'allenatore speriamo che la squadra sinceramente mi intriga molto speriamo che la Roma possa fare bene quest'anno ci sono già molti molti problemi come ben saprete tantissimi contagiati in Serie A c'è stato il caso del Genua anche in questi giorni nell'Inter ci sono dei contagi tra l'altro dobbiamo dare una notizia molto importante perché questa mattina è uscito fuori un comunicato in cui ci sono tre positivi in casa Roma tre ragazzi positivi dell'Under 18 che sono stati a contatto a quanto pare con alcuni giocatori della prima squadra credo sia stato fatto un allenamento insieme insieme alla prima squadra per cui lunedì ci sarà un nuovo ciclo di tamponi per la Roma sperando che non ci siano positivi si è parlato molto in questi giorni della continuità del campionato il campionato secondo me si deve giocare insomma l'abbiamo visto anche con quando era iniziata la pandemia poi è stato sospeso è stato fatto di tutto per farlo ripartire perché c'è un'industria praticamente da da mandare avanti quindi si farà di tutto per per continuare questo campionato ovviamente il problema è che con tutti questi con tutti questi positivi è molto difficile pensare a una a una continuità del campionato personalmente non sono d'accordo con non sono d'accordo con la con la decisione di di assegnare il 3-0 a tavolino ogni volta che le squadre dovessero dovessero avere dei positivi e non potessero quindi si può chiedere il rinvio una volta a stagione quindi io credo che nel caso in cui dovesse esserci uno scontro di alta classifica oppure due squadre che si stanno giocando la salvezza e una squadra dovesse perdere per 3-0 non sarebbe proprio una cosa una cosa giusta sono più a favore ad esempio di aggregare i primavera anche se comunque l'equilibrio devi accettare che viene alterato perché quando tu giochi un campionato con una pandemia del genere accetti di alterare l'equilibrio del campionato però meglio giocare la partita che perderla 3-0 a tavolino non capisco sinceramente perché il Napoli non sia andato a Torino perché è vero ci sono stati poi sono stati scoperti dei positivi però anche squadre come il Milan in Inghilterra il Liverpool mi sembra con 7 giocatori positivi sono andati ovviamente tutti isolati sono andati poi a giocare il Milan ha scoperto la positività di Duarte il giorno dopo di Ibrahimovic e poi mi sembra a essere la partita di Europa League e comunque la giocata anche perché se si ragiona in ottica Napoli che adesso deve farsi due settimane di quarantena salta anche la prossima partita con l'Atalanta una Roma che scenderà in campo speriamo possa scendere in campo sabato sera allo stadio olimpico contro il Benevento attenzione perché è una sfida sembra sulla carta una sfida facile dai tre punti ma in realtà il Benevento ha già vinto due partite su tre e a sei punti ha battuto la Samp e il Bologna ha perso con l'Inter vabbè un avversario completamente fuori portata per il Benevento una Roma che ha l'obbligo di vincere dopo e di continuare questa scia positiva questa striscia positiva dopo la vittoria di Udine sperando di ritrovare anche i gol di Edin Dzeko che non ha fatto troppo bene in queste prime partite speriamo possa sbloccarsi il Bosniaco e prendere un po' di fiducia detto questo noi ci sentiamo settimana prossima ragazzi vi invito a seguirci su tutti i nostri social su Instagram su Facebook su Twitter iscrivetevi al nostro canale YouTube seguiteci sulla nostra radio mi raccomando leggete tutti i nostri articoli www.illegionario.info un saluto a tutti e sempre sempre Forza Roma Grazie